Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante Divalico in direzione Bologna. Si segnala inoltre che per lavori di manutenzione delle gallerie stanotte in orario 21 serie rimarranno chiusi sulla 1 panoramica il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma e sulla 1 direttissima il tratto compreso tra Aglio e l'allacciamento con la 1 panoramica verso Bologna. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un incidente possibili rallentamenti tra Pollonica Est e Pollonica Nord in direzione Genova. Treni per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pistoio e Montale Agliane e regionali percorrenti la linea Firenze-Pistoio-Lucca-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!